Ciao a tutti, bentornati su The Games for You, io sono Roy Lovat e oggi siamo di nuovo all'interno dell'universo di Disciper Liberation e attualmente siamo alle prese con il DLC Path of Madness e per non farci gli affari nostri ci siamo ficcati in questa rogna non indifferente ovvero siamo finiti in un piano alternativo a causa di un rituale che non è andato proprio secondo i nostri piani e per uscire dobbiamo far fuori i guardiani che impediscono il funzionamento di qualsiasi portale di teletrasporto il problema è che tutte le truppe che stanno qui come questa che si sta avvicinando sono abbastanza molto più forti di noi e quindi c'è il rischio che ci piallino ecco appunto, neanche il tempo di dirlo, questo non è uno dei più forti però vediamo un po' se riusciamo a sopravvivere e a uscire di qui però l'altro abbiamo sbloccato anche un nuovo companion che dopo vi faccio vedere a ver ok, uno a me quello che preoccupa adesso è questo perché piglia Orion alle spalle ammazza questa quella muore adesso, c'hanno tre arcieri parca miseria eh sì a quanto pare le vecchie unità contro sti nuovi nemici non servono proprio a niente oh no pure Ejamar male molto male è sì è è è è è Orca miseria Allora, vediamo un po', no, porca miseria Che poi in questa mappa non ci sono neanche punti dove rifornirci di vita Meno male che abbiamo 800 truppe di rinforzo dietro Ma nessuna in grado di curarci Madonna, sti arcieri sono fortissimi, no? Orca miseria, ladra Allora Ok, sei riuscito a mancarlo, complimenti Curatelo, curatelo B, B Nooo Shoot Maledizione Maledizione E mosso cavoli perché Avianna è quella più potente Se poi lisciamo pure in questa maniera Tutti e due l'ha lasciata Ottimo Ottimo Vai qua, lo so Pensavo a girasse Invece no Che fail E beh, prima o poi dovevamo morire Non abbiamo mai perso un combattimento fino adesso I am the altar I am the altar Morodio and Quilla Death to all models Burning Oh man Ma vai qua in questo esagono rosso, no? Dai, dai, che ce la facciamo? Ok, l'abbiamo fatta, abbiamo perso un po' di unità però Perlomeno Allora, vediamo un po', va? Dimmi che ce l'ho un'altra, sì ce l'abbiamo Aspetta un attimo Ma non sono morti Non possiamo morire in questo piano Nice Nice Ah, allora, se l'avessi saputo prima Easy allora Dobbiamo uccidere 5 Però mi pare che avessi detto che 3 bastavano Ah, attenzione Questo è il nuovo eroe che abbiamo subbloccato Beh, non è proprio un eroe, è un'unità Peccato che costi tantissimo Costa 40 punti E la vediamo subito in combattimento E la vediamo subito in combattimento Vediamo se l'assassino Non riesce a farlo fuori Quasi Vedi cosa dovevamo toglierle? Quello del don't Ci vuole andare Blocca questa un po' Cioè Speriamo che si blocchi Oh no, c'è di nuovo questa Dolore Mamma mia La possono fare male anche i miei? Per favore Ah, perché? Le pizze che prendono Eccola, vediamo un po' che fa O sta ruota intorno Oh No No Controllano un'unità, è vero Male Quindi devo ucciderla Mi sa che finché non la uccido Rimane sotto al nostro controllo Cioè sotto il suo Effetto Mmm Eh vai qua per favore Oh grande L'abbiamo Lisciato Dobbiamo mettere ad Avianna L'abilità che fino ad adesso Abbiamo detto che non serviva Ovvero La resistenza All'attacco obbligato E invece Adesso serve Perché a quanto pare Contro questi qua Perdiamo sempre l'attacco Siamo obbligati ad attaccarle Quindi Contro queste Queste qua Uno Vai qui Allora Allora Avianna Facciamo che vai Ok Ok Passi qua Sì Vai qua E fai questo No Vabbè Però almeno uccidiamo questa Ah Ok L'abbiamo recuperato Bene La gloria Sarà mia L'abbiamo Sì 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 Adesso è un buono È un giorno buono Per un combattimento Padre Guermi la mano Non possiamo Oh, avrei avuto questo E per quanto sia Indebolito Dai curatelo Perché se no Problema se adesso si concentrano Tutti su di lui Ah che fastidio Esquiva questa Esquiva Ti ho detto Fight me O bite me Ma mica ho capito Perché queste poco a poco muoiono Quindi meno male che l'abbiamo curato Perché se no curiamo pure questa Ovviamente Anche lui Oh ma perché non lo fa? Ma siamo silenziali? No E allora? Non ho capito Perché non fa più l'abilità Bravo Mi raccomando eh E se li sciavi Davo un pugnettino Tu mi dovresti uccidere questa Bene 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 Due E adesso vedremo Se a uccidere il terzo Succede qualcosa O davvero Dobbiamo ucciderli Tutti e cinque Perché qui mi pare che ce n'era uno Veramente Forte Uno Scregno Uh Attenzione Intanto qua Mettiamo Questo Questo Immuni E un po' Gli stivali Allora Vanno potenziati però Per cui aspettiamo Oh 39 Vediamo gli altri Siamo a livello 35 Noi Qui che c'è? È sempre la stessa strada Qui 39 Maledizione 39 37 Ok Attenzione Ok Ok Attenzione Non si attiva Sta dormendo sul lavoro Ah Ok Però comunque Lo dobbiamo combattere Nonostante Sia inattivo Male Guarda quanti ce ne hanno Porca miseria Non c'hanno gli arcieri Ma allora Questi qua Attaccano Letali Intorno Questi c'hanno Il tome Maledizione Eh lo so Lo so Infatti È molto rischioso Fare così Ma d'altronde Mmm Non lo so Non lo so Vediamo un po' Allora attacchiamo questo Attacchiamo questo Attacchiamo questo allora lì Avianna sta per morire quindi dobbiamo andare lei a morire al posto di Avianna questo ovviamente è uscito dall'occultamento perchè sì non mi ero accorto che con QE possiamo girare la visuale quella ovviamente è già morta chi è? peccato si è morto solo uno no Orion mi doveva decurare è morto Orion? uh Gizlewiz bene non possiamo fare neanche quella abilità lì non la possiamo usare eh maledizione vai a curarti resisti? nooo bello bravo meno male che sta gente non muore altrimenti avrei rosicato olimpicamente oh nooo nooo basta basta ma porca miseria pure l'assassino ci muore ehm vai qua ok ok questa è un po' più attaccare curatelo tantissimo perchè c'ha le fiamme non è che riesce a uccidere questo per casa oh via 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 vattene lontanissimo nooo nooo perchè l'hai lasciato con 0.5 di vita forza questa è ancora tutta la vita porca miseria questo quasi questo pure più della metà eh ciao ciao paladino nooo oh no è Jamar non è esattamente il più resistente è Jamar per cui vediamo questa è questa è ecco è beh è un o bravo così si fa deboliamo un po' questo te ne devi di andare te ne devi di andare proprio lontanissimo vai assassino ok rimasto solo per rompiscatole lassù tu purtroppo hai solo un attacco quindi non fare niente ehi è morto di stenti e mo sono rimasti quei due la che però son di livello 39 vediamo questo potremmo combattere questo e prendere un livello in più ma ne sa che comunque madonna c'hanno tantissimi arcieri vediamo quell'altro chi c'ha abbiamo finito anche il mana come questa non lo so eh forse questi no questi c'hanno le arpie che c'hanno quell'abilità fortissima ma proviamo questo qua senti che ti devo dire forse se riusciamo ad uccidere questo subito finisce il combattimento potrebbe essere non credo è troppo debole non credo è troppo debole eh perlomeno questo l'abbiamo eliminato è già una gran cosa adesso tutti gli arcieri insieme ok Ah, quello è già morto. Possiamo fare questa cosa azzardata? Almeno facciamo un po' di danno. Vai, tu stai in posizione perfetta. Finalmente. Bello. Train una botta sola. No, no, no. Allora, tu chi potresti far cuore? Tipo lei. Bell'attacco. Perlomeno questi arcieri sono debolini. Perlomeno il mio flore. Perlomeno il mio flore. Perlomeno. Ora. Perlomeno il tuo rato. Perlomeno il flore. Per favore, cerca di sopravvivere. Ma questi si sono sparsi ovunque. Giusto per rendere l'esperienza più interessante. Quello mondo dovrebbe morire. Ma per sicurezza lo uccidiamo noi. È overkill però, non ci dispiace la cosa. Puoi andare qua, ma tanto. Perlomeno il mio flore. Perlomeno il mio flore. Ah, questo qui pure. Bello grossino. Bello grossino. Death is close This should be fun Pain will be your reward Ah, e perlomeno siamo arrivati accanto a lui Questa adesso dovrebbe morire Questa è che ti dico, eh? Andiamo qua Bene, così questa adesso lo uccidiamo No! Rischio, rischio, vai Inspiegabilmente non abbiamo preso danno Ehi, il livello è 36 Ok E ora? Eh no, dobbiamo ucciderli tutti Che meraviglia Ah, questi sono cresciuti di livello Erano livello 39 e adesso livello 40 Nice Allora vai qua per allontanare Resti qua dal gruppo No, ho sbagliato Mmm, vorrei usare l'altro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. No, qui dobbiamo fare qualcosa per sistemare questa situazione non proprio favorevole. Tipo, potrei andare qui con lui. Troppo. Non lisciare, soprattutto non lisciare quella. Beh, potrebbe andare molto peggio st'attacco. E' che sono veramente tanti, eh. Oh no, è Jamar. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Um, ok. No, che fai. Matta. Matta. Benen. Matta. 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 Man fa niente di danno. Ehhh... L'unico punto dove non finiscono le fiamme. Grazie a tutti Vai qua Vabbè, l'uno non colpetta un altro Sono rimasti in tre? Bene Oh, ok Possiamo uscire adesso? No, manca ancora uno Uh, attenzione Che fa? Costituzione 17 32, però livello 4 Intelligenza, physical resistance, HP Ah, non lo so, eh Non lo so Perché quell'altra ci dà pure vita Eh, stiamo morendo con la poca Con tutta la vita che abbiamo adesso Quindi avere meno vita non so quanto sia Furbo Chi manca? Scusa Qui ce n'è un altro Ah, sì Amica me lo ricordavo qui Ok, questo è il livello 37 Ok Ok Feel the snake's bite Now you see me? Quickly Let me inside My father Be with you Problema è che tutti questi C'hanno attacchi Aoi potentissimi Guarda qua Già hanno massacrato tutti E non c'è maniera di schivarli E quello è il problema Questi tre svolazioni Qui tra l'altro Hanno quell'abilità Con le meteoriti Per cui c'è veramente da ridere Che qui devo fare così adesso Sperando che comunque resistano Vai qua Tutti, tutti attacchi Aoi Porca miseria Mamma mia Allora forse questo muore Quei due stanno per morire Ma gli altri Guarda qua Che roba Già è morta La tizia lì che cura Questa muore il prossimo turno Anche il paladino E come Come diavolo Blocchi sti attacchi E sono solo a un livello Più in alto di noi Perlomeno a via Anna Allora forse Yeah Tanto via pure il Il paladino Questo non lo posso neanche usare Poca miseria Eh Qui dove vai Muori Vai qua Che ti devo dire Speriamo che Niente Ah Bloccato Bene Ok Usa questa Ejamar Ok Speriamo si concentrino Tutti su di lui Ah Che sfiga Vabbè Il prossimo turno è morto Ci arriviamo qui Sì Meno male Ok Ok Già abbiamo qualche chance in più Non curatemi lui Che sta nelle fiamme Oh Ryan mi dovete curare Eh Porca miseria Vedi perché Lo sapevo io Oh no No Porca miseria C'è rimasto nessuno Per l'ennesima volta Eh ma capirai Eh perlomeno Si è suicidata Andando lei Nella Nella fonte E' morto Bene Ecco ecco Moride Ok Vole è morta Se va qua Questa Si carbonizza Quindi uccidimi questa Che ti devo dire E vattene Sta tutto ad Ejamar E la wizard bianca Eh Eh Fato niente Ma questa Sta qua su Tra l'altro Dobbiamo sbrigarci Perché sennò questi Riottengono le loro abilità Più potenti Bello Eh Porca miseria Ok Si è rimasta Solo tu Quindi un po' che puoi fare Potresti usare questa O questa Usiamo questa No No E dai Pure la reincarnazione Venga Il veleno Problema che A questa Velocità Ma non lo curare Che what are you doing? e come ci arrivo laggiù ah ci arrivo ci arrivo muori ci abbiamo fatta proprio all'ultimo adesso ce ne possiamo andare da qui per favore grazie no 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 via 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 fuori è ancora chiuso dai e infatti pensavo che sconfiggere i guardiani ci avrebbe permesso di scappare il mio sangue il demon ha detto che avrebbe stabilizzato il cancello il portale il cancello ecco prima tanti problemi per utilizzare il sangue e poi invece ah ce l'abbiamo fatta bene sta anche crollando tutto quanto e bellezza i suoi discepoli sono morti esatto non è esattamente come l'ho lasciato ma l'importante è essere tornati indietro ok adesso che i nostri interessi non sono più rinati gliene frega niente di seguirci però vedi possiamo recrutarle ma non ci interessa va bene 15 punti con la legione del caos e abbiamo trovato wow la può mettere è già marco l'arma yeah yeah yes ahah ottimo e poi cosa abbiamo trovato aspetta c'era anche no bene siamo riusciti ad uscire da quella maledetta prigione infernale e adesso possiamo proseguire qui c'è da sconfiggere questo di livello 40 ma soprattutto dobbiamo tornare a recuperare un po' di cose qui che c'è c'è della roba con gente di livello altissimo ma ce la vedremo con loro nel prossimo episodio per oggi terminiamo qui come sempre vi ricordo che potete lasciarmi un commento qui sotto mettere like al video e iscrivervi al canale come sempre io sono il mezzo demon e noi ci vediamo nel prossimo video ciao